Impariamo dalla fede di Maria a lottare contro questa società della sfiducia e dell'indolenza che è diventata cieca e insensibile davanti a chi è escluso dall'orgoglio accecante di pochi. Così Papa Francesco nella messa celebrata in spagnolo nel tardo pomeriggio nella Basilica di San Pietro in occasione della festa della Beata Vergine Maria di Guadalupe, patrona delle Americhe e delle Filippine. Per il terzo anno consecutivo il Papa ha voluto celebrare la memoria della Guadalupana insieme a molti gruppi di fedeli delle comunità latinoamericane e filippine presenti a Roma come anche numerosi cardinali, vescovi, religiosi e membri della Curia Romana. Guardando a lei, icona del discepolo e della donna credente orante, ha detto Francesco nell'Omelia, nel cuore dei nostri popoli batte un forte senso di speranza nonostante la società sia sempre più marcata dai segni della divisione e della frammentazione, lasciando fuori gioco tanti. Non è possibile vantarsi della società del benessere, ha detto ancora il Pontefice, quando nel continente americano bambini e giovani di strada dormono nelle stazioni e mendicano agli incroci, i giovani sono vittime dei mercanti di morte, gli anziani vivono nella solitudine, le donne subiscono molte forme di violenza. La presenza della Guadalupana, ha concluso Papa Francesco, ci dia la forza di generare legami che ci aiutino a dire sia la vita e no ad ogni tipo di indifferenza, di esclusione o di scarto dei popoli o di persone. Grazie. 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 Grazie.